Si è spento in un letto della casa di riposo di Chiuro all'età di 78 anni dopo una lunga malattia Arnaldo Bortolotti, espolente politico e istituzionale molto conosciuto in provincia di Sondrio. Bortolotti giornalista, sempre militato nella Lega Nord, negli anni ha rivestito l'incarico di consigliere comunale, quindi di presidente del consiglio comunale di Sondrio con l'amministrazione Bianchini ed è stato presidente della casa di riposo di Bormio. Molto impegnato nel sociale, Bortolotti si è sempre distinto per il suo sostegno agli ultimi e agli emarginati.